Amen. Grazie tante. Grazie tante. Sì, in questo luogo possiamo realmente ringraziare il Signore in ogni lingua, ringraziandolo dal profondo del nostro cuore. La parola maranata tutti la comprendono, la parola merci la comprendono pure tutti. Siamo così riconoscenti che tutti coloro che sono retti nel loro cuore comprendono ogni cosa in modo corretto. E se penso ai quattro cantici che il coro ha cantato ieri, in ogni cantico c'era il Vangelo, c'era la proclamazione del pieno Vangelo. Ed oggi, allo stesso modo, in tutti gli inni che sono stati ispirati dallo Spirito di Dio, il nostro Signore è glorificato. E anche nella parola di introduzione l'abbiamo ascoltato, avendo lo stesso Spirito di fede. Questa è la differenza fra coloro che dicono noi crediamo, ma che non hanno lo stesso Spirito di fede. E lo Spirito di fede ci rivela le promesse che sono collegate alla fede e ci guidano nella parola. La parola promessa in questo collegamento è molto molto importante. Poi, nell'ultimo cantico che abbiamo cantato, oggi Gesù chiama. Ditemi un solo posto dove il nostro Signore abbia mandato via qualcuno e gli abbia detto, vieni domani. No. Tutti, ogni giorno, in ogni riunione, in ogni luogo, il Signore non ha mandato via nessuno dicendogli di ritornare l'indomani, ma tutti coloro che sono venuti a Lui hanno ricevuto ciò che hanno chiesto. E poi abbiamo anche la potente parola, oggi se udite la Sua voce. Non domani se ascolterete la Sua voce, ma oggi, tempo presente, oggi. E se Dio è presente, allora Egli parla oggi con noi. E noi riconosceremo il nostro oggi per grazia. E riceviamo e accettiamo ciò che Egli ci ha dato. Anche questa mattina diamo il benvenuto a voi tutti, molto calorosamente, nel prezzo del nome del nostro Signore. Mi sopraffa ogni volta, quando penso a ciò che Dio fa proprio adesso. Cosa sarebbe accaduto se fosse stato detto al fratello Branham di non fare il viaggio oltreoceano, ma di ritornare a Jeffersonville per immagazzinare il cibo. Se in primo luogo non fosse stato scritto in Amos, capitolo 8, verso 11, che Dio avrebbe mandato una fame sulla terra. Non una fame di pane o sete d'acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Lì è scritto al plurale, le parole del Signore. Tutte le parole che il Signore ha proferito, di ascoltarle, di crederle, di riceverle e di averle rivelate per mezzo dello Spirito. A cosa servirebbe? Io non parlo di me stesso, non ho nulla a che fare con questo. Con un mandato, nessun servitore di Dio ha qualcosa a che fare. È una cosa che riguarda Dio. Mosè non ha dovuto chiedere a Dio, Elia non ha dovuto chiedere a Dio, nessun profeta ha dovuto chiedere a Dio di mandarlo. L'incarico è il mandato divino, è una cosa che riguarda Dio e nessuno ha dovuto chiedere. Ma il fedele Signore, anche qui, egli ha fatto grazia. Non ha detto soltanto, io ti manderò in altre città a predicare la mia parola, ma egli ha detto pure, in magazzina del cibo. Perché una grande carestia sta per venire. Allora tu starai in mezzo alle persone per distribuire il cibo. Questo è vero come Dio vive. E perciò Dio ha realmente mandato una fame. E perciò il fratello Branham ha ripetuto le parole del mio mandato e ha detto aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. Dio si è realmente preso cura di ogni cosa per la sua parola, per il cibo, per la rivelazione che egli ha dato, che realmente comprendiamo ogni cosa in modo corretto e possiamo anche collocarlo correttamente. Anche oggi sono arrivate di nuovo numerose telefonate. Ovunque le persone ascoltano e credono e sono riconoscenti. Il fratello Polniaghi da Nairobi, il fratello Hervé da Lione, da Port Elisabeth, dal fratello Udo dal Sud America, da Libreville e poi dalla Romania, da Cabinda, da Ottava, dallo Zambia, dal Sud Africa, da Johannesburg, dalla Repubblica del Congo. Ancora una volta ci sono dei nomi particolari che sono difficili da pronunciare. Mumbushimaba, Dio è presente ovunque. Egli conosce tutti per nome. Dall'Ungheria, da Città del Capo, da Namibia, dal fratello Safari, ancora una volta da Nairobi, poi il fratello Bruce dall'Università di Città del Capo, poi saluti dai fratelli di Dagobiville, poi il fratello Robert, il fratello Baler, il fratello Rashidi, il dottor Lotika e chi è questo qui? Arme vari, poi da Abidjan, da Haiti, dal Rwanda, dall'Australia e qui l'ultima, da Tatarstan. Chissà dove si trova? È scritto bene in lingua russa e dall'altro lato del fiume Volga. Tutti ascoltano e tutti guardano, tutti credono la parola dell'ora. Fratelli e sorelle, se noi in questo luogo diciamo sempre che ora viviamo nel periodo di tempo più importante del tempo della grazia e che realmente siamo molto vicini al ritorno di Cristo e l'ultimo messaggio, il messaggio della chiamata fuori, il messaggio della restaurazione, ogni cosa viene riportata alla parola originale, al fondamento originale, alla dottrina degli Apostoli, alla stessa potenza, ogni cosa deve essere alla fine come era all'inizio. Io oso dire noi non ci raduniamo in vano, noi ascoltiamo la parola insieme, noi crediamo insieme e noi sperimenteremo insieme il compimento e vedremo il volto del nostro Signore come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione e quando cantiamo sol a bifee allora naturalmente non ci riferiamo ad ogni genere di fede ma alla fede come dice la scrittura come il nostro Signore stesso ha detto chi crede in me come ha detto la scrittura naturalmente non chi crede come vuole e ciò che vuole ma chi crede in me come ha detto la scrittura dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva e questo egli l'ha detto dello Spirito che sarebbe venuto su tutti coloro che avrebbero creduto che Dio ben dica oggi in modo speciale i nostri fratelli che traducono tutti coloro che già traducono sanno quanto sia difficile trovare le parole giuste in altre lingue e di trasmetterle di ripetere ciò che è detto in quella lingua dalla quale si traduce ma Dio sia ringraziato i nostri fratelli hanno tutti la stessa rivelazione e tramite lo Spirito di Dio possono trasmettere la stessa parola nelle differenti lingue dunque siamo anche riconoscenti per questo e ancora una cosa non viene tradotto soltanto in dodici lingue simultaneamente ma poi viene tradotto in altre lingue e ancora tradotto affinché su tutta la terra tutti ascoltino l'ultimo messaggio ascoltino l'ultima chiamata per grazia e possano sperimentare la loro preparazione per grazia per favore perdonatemi se faccio un'osservazione qui dalla volta scorsa e se lo ripeto qui se qualcuno afferma se qualcuno afferma che ogni cosa è terminata con il ministero del fratello Branham e alcuni insegnano persino che il tempo della grazia è terminato che il trono della grazia è diventato il trono del giudizio ed io stesso ho incontrato delle persone dei fratelli che stavano davanti a me e mi hanno detto il rapimento ha già avuto luogo e un fratello ha detto persino noi siamo già ritornati sulla terra e ora siamo nel millennio e tu hai mancato ogni cosa cari questo realmente fa male nel più profondo dell'anima e se un tale fratello può anche dire sì ho conosciuto il fratello Branham personalmente l'ho ascoltato allora io devo dire una cosa tu devi conoscere il signore personalmente non è sufficiente aver conosciuto il profeta personalmente tu devi conoscere il signore personalmente ricevendo la sua parola affinché ti sia rivelata personalmente tuttavia l'abbiamo detto prima anche la falsificazione che i fratelli hanno osato fare sotto la foto con la colonna di fuoco voi tutti lo sapete 17 volte il fratello Branham ha ripetuto ciò che gli fu detto nel 1933 l'11 giugno gli fu detto come Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo e loro l'hanno cambiato l'hanno cambiato in modo criminale così tu sei mandato per precedere la seconda venuta di Cristo la parola messaggio non si trova più là e questo sotto la foto della colonna di fuoco come vi ho mostrato quattro settimane fa e poi si vede questa foto su internet dove le persone si inchinano davanti a questa foto e fanno la loro adorazione poi allora realmente questo lacera il cuore lacera il cuore da destra a sinistra dalla testa ai piedi la nostra adorazione appartiene a Dio soltanto e questo accade davanti a nessuna foto ma chi adora Dio lo adorerà in spirito è in verità e c'è una potente parola in Apocalisse capitolo 19 quando l'uomo di Dio voleva adorare colui che gli aveva rivelato ogni cosa e poi egli ricevette le istruzioni e queste istruzioni dobbiamo trasmetterle a tutti Apocalisse capitolo 19 qui i versi 9 e 10 Apocalisse capitolo 19 versi 9 e 10 quindi mi disse scrivi beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello mi disse ancora queste sono le veraci parole di Dio una tale esperienza sopra fa questo naturalmente tutti possiamo comprenderlo ed immaginarlo ma poi sta scritto allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo ma egli mi disse guardati dal farlo io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù adora Dio adora Dio alleluia adora Dio perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia qui abbiamo la differenza fra il dono di profezia e lo spirito della profezia e la sposa dell'agnello ascolta ogni parola è lo stesso spirito santo che ha dato la parola lo stesso spirito santo la stessa unzione rimane sopra di noi che ora ascoltiamo e predichiamo la stessa parola e che ora ascoltiamo e predichiamo la stessa parola ascoltatori e predicatori della parola sono sotto la stessa unzione dello spirito perché loro non ascoltano un uomo ma ascoltano ciò che Dio ha detto nella sua parola e non sono uniti al predicatore ma sono uniti con Dio che ha mandato la sua parola per guarirci e per rivelarcela molte volte l'abbiamo detto qui in questo luogo se un evangelista stabilisce il collegamento a se stesso allora egli edifica il proprio regno un uomo di Dio è mandato per stabilire il collegamento con Dio è così che la via del Signore viene preparata ed è così che noi veniamo nella vera comunione con il nostro Signore poi abbiamo qui in 2 Corinzi capitolo 4 dopo che abbiamo letto questa potente parola dal verso 13 noi abbiamo lo stesso spirito di fede ciò che è in vostro possesso appartiene a voi questo nessuno può togliervelo possesso possesso se abbiamo una casa tutto ciò che possediamo appartiene a noi ciò che possediamo non che lo riceviamo oggi e lo perdiamo domani no ciò ci è stato dato una volta per sempre da Dio stesso perché abbiamo ascoltato dall'inizio lo abbiamo ricevuto e lo abbiamo creduto per favore confermatelo nel vostro cuore dite Signore questo io lo credo questo è accaduto con me io lo possiedo non soltanto la parola della fede non soltanto la promessa della fede ma lo stesso spirito di fede secondo la scrittura io ho creduto e perciò ho parlato perché io parlo perché voi parlate perché testimoniamo perché noi crediamo è perché la parola ci è stata rivelata da Dio e poi anche lo sguardo fino alla fine del nostro cammino nel tempo della grazia verso 14 sapendo che noi non sogniamo non supponiamo ma sappiamo beata speranza Gesù è mio beata speranza che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi Efesini capitolo 5 verso 27 senza macchia né ruga irreprensibili lo sposo si presenterà la sposa davanti a sé irreprensibile magari è impossibile per voi ma con Dio ogni cosa è possibile noi confidiamo nel Signore e nella sua grazia noi confidiamo in Lui che gli farà ogni cosa bene con coloro che si lasciano correggere che ricevono ogni parola che dicono sì ad ogni parola e poi nello stesso quarto capitolo in due corinzi leggiamo i versi 5 e 6 noi infatti non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù il Signore no noi non predichiamo Paolo né Pietro noi predichiamo ciò che Dio ha rivelato a Paolo e a Pietro non predichiamo il fratello Branham noi predichiamo la parola che è stata rivelata a Lui e come all'inizio così anche adesso alla fine è stata rivelata e se poi pensiamo a quanti hanno messo i loro pensieri in merito ai sette suggelli ed ecco che Dio ha rivelato ogni cosa in modo così meraviglioso c'è soltanto bisogno di leggere e noi nel nostro libro in merito ai 22 capitoli dell'Apocalisse l'abbiamo esposto molto chiaramente precisamente nel modo in cui il fratello Branham l'ha insegnato che i primi quattro suggelli scorrono paralleli con le sette epoche della chiesa e il quinto suggello riguarda il popolo di Israele i giudei tutti i martiri che furono uccisi solo perché erano giudei fino all'olocausto nella seconda guerra mondiale e loro gridano vendetta fino a quando non vendicherai il nostro sangue e poi la promessa fu data loro che i loro fratelli avrebbero dovuto essere uccisi come loro affinché il numero fosse completo e poi il sesto ed il settimo suggello questo descrive cosa accadrà dopo il rapimento i sette angeli con le trombe le sette coppe tutto ciò che accadrà o Dio sia ringraziato per la rivelazione della sua santa e preziosa parola per la rivelazione di tutto il piano di salvezza e del consiglio del nostro Dio sì possiamo dire con tutto il nostro cuore noi non predichiamo noi stessi ma predichiamo Gesù Cristo e il Signore e siamo vostri servi per amore di Gesù e ora viene la meravigliosa testimonianza ed io realmente credo che si applichi a noi tutti che siamo radunati in questo luogo oggi e tutti coloro che ascoltano adesso verso 6 perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo questo amen non era abbastanza forte è accaduto è accaduto noi non predichiamo noi stessi noi predichiamo il Signore e come certo che Dio all'inizio quando la terra era in forme e vuota ma lo spirito aleggiava sulle acque ed egli proferì la potente parola così Dio anche nel nostro tempo ha proferito la potente parola ed ogni parola che gli ha proferito è accaduta all'istante anche che doveva esserci luce al tempo della sera e che noi possiamo camminare in questa luce per grazia o quante fedele il nostro Dio come meravigliosa la sua parola e anche questo noi del continuo possiamo dirlo ogni cosa è stata scritta così fino alla fine possiamo ricevere l'insegnamento dalla parola per esempio in Isaia capitolo 42 Isaia capitolo 42 qui abbiamo la promessa Isaia capitolo 42 verso 9 Isaia capitolo 42 verso 9 e qui leggiamo sì il verso 9 Isaia capitolo 42 verso 9 ecco le cose di prima sono avvenute e ora vi annuncio cose nuove io ve le faccio conoscere prima che germoglino non non soltanto ascoltarle ma ve le faccio conoscere vi dico ciò che è già accaduto è ciò che accade adesso è ciò che ancora accade leggiamolo di nuovo ecco le cose di prima sono avvenute amén e ora vi annuncio cose nuove ora ve le annuncio nel nostro tempo io ve le faccio conoscere prima che germoglino chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese tutti possono leggere ma soltanto chi trova grazia davanti a dio ascolta ciò che lo spirito dice adesso alle chiese tutti gli altri ascoltano tutte le altre voci ma tutti quelli che sono nati da dio inclinano l'orecchio al signore e dicono parla signore il tuo servo la tua serva ascolta e così abbiamo compreso ciò che significa ascoltare ciò che lo spirito dice alle chiese ogni cosa che ha già trovato compimento è dietro di noi e ciò che giunge a compimento adesso questo il signore ce lo fa conoscere e gli dice oggi se udite la sua voce di essere condotti in quella parola che gli ha ordinato per oggi che ha stabilito per il nostro tempo per rivelarla per mezzo dello spirito santo poi in isaia capitolo 44 la parola molto conosciuta isaia capitolo 44 verso 3 isaia capitolo 44 verso 3 io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli Dio l'ha detto in tale maniera così io è la volontà di Dio che gli spanda il suo spirito sopra la sua progenie anche nel nostro tempo nulla è cambiato nulla noi viviamo ancora nel periodo di tempo in cui lo spirito santo si muove su tutta la terra in Gesù Cristo il nostro signore nel figlio di Dio Dio si è manifestato personalmente Emanuele Dio con noi e noi sappiamo che il nostro signore è Dio manifestato in carne giustificato nello spirito e prima della sua ascensione egli ha dato la promessa di mandare lo spirito santo lo spirito santo non è un'altra persona lo spirito santo è lo spirito di Dio e lo spirito di Dio opera sempre parallelamente alla parola di Dio e conduce nella parola e ce la rivela nei minimi dettagli così Dio stesso l'ha detto io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli volete leggere Isaia capitolo 53 ci dice chiaramente chi è questa discendenza Isaia capitolo 53 verso 10 ma piacque all'eterno di percuoterlo di farlo soffrire offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato egli vedrà una progenie prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'eterno prospererà nelle sue mani la sua progenie lo servirà così è scritto nel salmo 22 verso 31 la sua progenie lo servirà e permettetemi di fare qui questa osservazione per fede con tutto il mio cuore sebbene nel frattempo le zizzanie sono in mezzo al grano non vi preoccupate prima che cada l'ultima pioggia prima che abbia luogo l'ultimo movimento soprannaturale dello spirito santo tutte le zizzanie saranno tolte e saranno legate insieme nell'ultima effusione dello spirito santo soltanto il puro grano sarà là e il puro grano il puro grano il nostro signore lo raccoglierà nel suo granaio e le zizzanie che saranno già state legate prima e tolte saranno arse col fuoco perché adesso siamo santificati tramite il sangue dell'agnello e separati e la parola santificato significa separato già nell'antico testamento come il popolo di israel fu separato da tutti gli altri popoli e da tutte le altre nazioni e fu stabilito al servizio di dio così noi quale chiesa del dio vivente siamo separati separatevi e non toccate nulla di mondo e dio vi accoglierò e noi realmente lasciamo che tutta la correzione venga su di noi e sappiamo che la parola del signore realmente compirà ogni cosa in noi ciò per cui è stata mandata come è vero che l'abbiamo ascoltata come è vero che l'abbiamo ricevuta e creduta oh beato è colui che ha creduto perché la promessa che il signore ti ha dato giungerà a compimento beati beati e questo è il signore stesso l'ha detto beati i vostri occhi perché vedono beati i vostri orecchi perché odono questo il nostro signore stesso l'ha detto ed è così e rimane così le orecchie che sono aperte per ascoltare gli occhi che sono unti per vedere siate sinceri Dio ci ha fatto la grazia di ascoltare e di vedere entrambi di ricevere e ogni cosa averla rivelata per grazia così Dio ha promesso di spandere il suo spirito sopra ogni carne e poi di spandere il suo spirito su tutti i suoi figlioli e le sue figliole alla fine e nel frattempo tutti i movimenti carismatici tutti i movimenti pentecostali tutti tutti 550 milioni affermano di essere battezzati con lo spirito ma nessuno di loro è condotto dallo spirito in tutta la verità tutti rimangono nella dottrina della trinità nel battesimo trinitario tutti celebrano se stessi tutti camminano nelle proprie vie e tutti guardano a Roma ma la schiera eletta è stata chiamata fuori e noi crediamo e confidiamo che il signore porterà a compimento la sua opera soltanto nei suoi amén alleluia e poi abbiamo la meravigliosa parola che abbiamo pure letto del continuo in Giacomo dove il nostro fratello Giacomo ha parlato molto chiaramente al riguardo ciò che accadrà prima del ritorno di Gesù Cristo qui qui sta scritto naturalmente Giacomo capitolo 5 verso 7 Giacomo capitolo 5 verso 7 or dunque fratelli siate pazienti fino alla venuta del Signore sì qui si parla del ritorno del Signore in merito al ritorno del Signore io vado a prepararvi un posto e poi ritornerò per accogliervi presso di me permettetemi di dire qui molto chiaramente senza rimproverare le altre lingue ma esattamente 17 volte nella nostra Bibbia tedesca la parola ritorno è scritta la parola ritorno in collegamento con la seconda venuta di Cristo in tutte le altre lingue è scritto soltanto venuta soltanto venuta nelle nostre Bibbie la parola ritorno è scritta al ritorno ci sono naturalmente differenti venute il Signore verrà e siederà sul trono della sua gloria ed egli giudicherà tutte le nazioni il Signore verrà molte volte egli verrà e metterà i suoi piedi sul monte degli olivi ma noi aspettiamo il promesso ritorno dello sposo io vado a prepararvi un posto poi ritornerò per accogliervi presso di me affinché dove sono io siate anche voi è qui naturalmente scritto ancora una volta verso 7 Giacomo capitolo 5 verso 7 ordunque fratelli siate pazienti fino alla venuta del Signore abbiamo ascoltato il coro maranata noi sappiamo che il nostro Signore verrà presto fino alla venuta del Signore e in collegamento con questo ci viene detto guardate qui dobbiamo fare una pausa pensate un po' qui sta scritto guardate guardate come l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione osservate osservate anche noi possiamo osservarlo pensate a questo e il Signore non verrà troppo tardi e ci viene detto che noi dovremmo chiedere a Dio la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia e il fratello Branham l'uomo dell'ora ha detto alla fine la prima e l'ultima pioggia cadranno allo stesso tempo e daranno una doppia restaurazione e Dio confermerà la sua parola e completerà la sua opera in coloro che credono è così bello che Dio ha mandato un profeta nel nostro tempo e ciò rimane per sempre la parola viene al profeta non all'evangelista ma al profeta e così Dio ha promesso un profeta ed egli lo ha mandato e tutta la parola è stata rivelata dunque e poi un'ammunizione viene pronunciata nel verso 8 fino alla prima parte del verso 9 in Giacomo capitolo 5 verso 8 siate pazienti anche voi siate pazienti anche voi avete bisogno di pazienza affinché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la meta avete bisogno di pazienza dunque siate pazienti per favore non diventate impazienti rimanete pazienti credendo e confidando perseverando sapendo che il nostro Signore non sarà in retardo ogni cosa accadrà al tempo giusto le cose passate sono accadute e le cose nuove io ve li annuncio prima che accadano prima che il compimento abbia luogo Dio ci ha rivelato ciò che accadrà nell'ultima pioggia ciò che appartiene al compimento per grazia poi il verso 8 ancora volta siate pazienti anche voi rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina ora vi chiedo quando questi passi della scrittura nei 2000 anni passati con una tale chiarezza con una tale determinazione si è potuto leggerli come nel nostro tempo quando 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 leggiamo nell'innario nell'innario dei pentecostali la sposa persevera così a lungo Signore fino alla tua apparizione sì in tutti i risvegli che ci sono stati nel passato in ogni risveglio il ritorno del Signore la preparazione è stato il tema della predicazione ma nel nostro tempo fratelli e sorelle nel nostro tempo possiamo realmente dire ora è il tempo ora è il tempo il tempo è giunto quando vedrete accadere tutte queste cose alzate i vostri capi perché sapete che la vostra redenzione è vicina ora abbiamo l'ammunizione non soltanto l'ammunizione perché la venuta del Signore è vicina io lo credo ma poi sta scritto non lamentatevi gli uni degli altri fratelli fratelli affinché non siate giudicati ecco il giudice è alle porte fratelli e sorelle non soltanto fra voi e Dio ma fra ogni fratello fra ogni sorella ogni cosa deve essere messa in ordine se qualcuno ha qualcosa per favore per favore non parlate gli uni degli altri ma parlate gli uni con gli altri chi parla di qualcuno coloro che parlano gli uni degli altri si mettono dalla parte dell'accusatore dei fratelli perché accusa l'altro ma nel momento in cui ci guardiamo tutti nello specchio della parola non vediamo nessun altro guardate in uno specchio e chi potete vedere là nello specchio vedete voi stessi e perciò Giacomo ha scritto pure al riguardo che dovremmo realmente guardare nella parola perciò Paolo ha scritto ognuno esamini se stesso noi possiamo pregare per tutti ma se abbiamo qualcosa per favore parliamo gli uni con gli altri mai riguardo agli altri e da oggi in poi per favore prendete ciò sul serio non permettete che qualcuno venga da voi e parli di un altro state attenti non fatelo di nuovo non ascoltatelo se qualcuno vuole dire qualcosa in merito a qualcun altro dite semplicemente lascia che venga il fratello lascia che venga la sorella affinché possiamo parlare insieme per favore per favore il tempo è avanzato il tempo è avanzato come è scritto qui non soltanto in merito al ritorno del Signore non soltanto in merito all'agricoltore che aspetta il prezioso frutto che aspetta la prima e l'ultima pioggia qui è scritto per voi e per me è scritto non lamentatevi gli uni degli altri fratelli dunque non mormorate non fatelo più realmente non fatelo più chi sente qualcosa che vada dal fratello che vada dalla sorella parlate gli uni con gli altri con amore e come Dio ci ha perdonati così Egli perdonerà tutti coloro che hanno peccato contro di noi nulla sarà imputato Dio perdona ogni cosa ora anche il pensiero fratelli e sorelle riguardo al tempo della fine e riguardo a ciò che Dio fa proprio ora non si tratta che vogliamo dire qualcosa che riguarda me o noi ma ritorniamo di nuovo a quello che abbiamo menzionato quattro settimane fa che abbiamo menzionato recentemente tutti coloro che credono che con il ministero del fratello Branham ogni cosa è arrivata alla fine fino al punto di dire che il Signore è già ritornato e sapete perché perché affermano e naturalmente il fratello Branham l'ha detto che l'angelo di Apocalisse 10 discende quando l'angelo della settima Chiesa è sulla terra invece di ritornare alla parola per comprendere e credere che lo stesso Signore che si è rivelato nella colonna di fuoco nella colonna di nuvola al popolo di Israele e giorno e notte Egli illuminava la via lo stesso Signore naturalmente si è rivelato nel nostro tempo è sceso quello è accaduto il 28 febbraio 1963 quando il Signore è disceso nella nuvola soprannaturale Egli naturalmente è il medesimo che era nella nuvola l'angelo del patto e che scenderà secondo Apocalisse 10 Egli è sempre il medesimo non ha importanza quando e dove Egli si rivela ora è importante che le cose che sono scritte nella Bibbia e anche le cose che ha detto il fratello Branham che si comprendano e si collochino biblicamente tramite la piena rivelazione di Gesù Cristo ho giusto una domanda qui se il Signore fosse già ritornato nel 1963 perché il fratello Branham nel novembre 1965 ha salutato tutti quelli che ancora aspettavano la venuta del Signore fratelli e sorelle la parola della verità è tutto per noi e non presteremo ascolto ad alcuna interpretazione ma crederemo soltanto la piena parola di Dio e quando il Signore ritornerà allora i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi che siamo viventi saremo mutati e insieme incontreremo il Signore sulle nuvole nell'aria queste sono delle realtà divine questo accadrà nel modo in cui è scritto cosa vogliono gli uomini con le loro interpretazioni Dio è nella sua parola ed ogni parola è collegata con l'adempimento di ciò che gli ha promesso anche riguardo a questo possiamo ringraziare sempre il Signore con tutto il nostro cuore ringraziarlo realmente con tutto il nostro cuore tuttavia permettetemi di dire anche questo tutti coloro che credono che con il ministero del fratello Branham ogni cosa è arrivata alla fine costoro sono tutti contro il fratello Frank sono tutti contro il fratello Frank perché sono giunti alla conclusione che dopo il fratello Branham nient'altro può venire e perciò il fratello in Germania non ha il diritto di dire che gli è stato chiamato e mandato questa è la tragica e mortale conseguenza di colui che crede che ogni cosa è arrivata alla fine sapete cosa credo io io credo che un periodo è terminato ma un nuovo periodo è iniziato e questo periodo va ancora avanti adesso pensate un po' alla dipartita del fratello Branham il mondo non sapeva ancora nulla del messaggio non aveva ancora sentito parlare di alcun messaggio il cibo era stato immagazzinato e i messaggi erano stati predicati e nell'aprile 1966 nessuna predicazione era stata ancora stampata è stato il fratello Franche che ha chiesto che adesso le predicazioni dovevano essere stampate affinché potessero essere tradotte tuttavia permettetemi di dire anche questo quale conforto la mortale conseguenza è che anche nelle nostre vicinanze tutti i fratelli che si riferiscono al fratello Branham non pensano affatto di partecipare qui in una riunione non pensano affatto di leggere una lettera circolare no non hanno bisogno di assistere alle riunioni non hanno bisogno del fratello Frank non hanno bisogno di alcuna lettera circolare non hanno bisogno di nulla hanno tutto ciò che il profeta ha detto sì e sono diventati un club una loggia sono diventati un club e su internet ho visto la foto ho visto delle persone inginocchiate davanti a questa foto in adorazione questa è idolatria è ancora idolatria che cosa abbiamo noi a che fare con questo ma la causa è nella prima falsità che con il ministero del fratello Brana ogni cosa è giunta alla fine e che nessuno può affermare di avere ricevuto una chiamata e un mandato tuttavia ringraziamo il Signore Dio egli non si è fermato ma in collegamento a questo qualcosa è diventato grande per me e poi terminerò con questo e spero che non terminiamo con un pensiero negativo ma che realmente terminiamo con quello che Dio ha fatto nel nostro tempo che lo riceviamo con riconoscenza lasciate che gli altri facciano ciò che vogliono e ciò che trovano che sia giusto voi e Dio noi e la nostra casa serviremo il Signore siamo riconoscenti che il messaggio raggiunge le estremità della terra e sono sempre felice quando i fratelli mi dicono vedo per esempio il nostro fratello Zinck nel 1967 nella città di Vintetur in Svizzera egli ha ascoltato la prima predicazione e da quel tempo noi siamo uniti nel Signore tutti quelli che sono da Dio ascoltano la parola di Dio la ricevono l'accettano e sono riconoscenti e coloro che negano il mandato ora per favore non per arrivare a me stesso ma se è vero ed è vero che il Signore mi ha parlato con voce penetrante proferendo il mandato cosa farà con coloro che passano accanto e che raccontano le loro barzellette disprezzando a destra e a sinistra cosa farà con loro disprezzano me o disprezzano l'onnipotente Dio che ha proferito un mandato non si tratta affatto di me ma si tratta di ciò che Dio ha fatto almente oggi non ieri oggi non ieri al tempo del fratello Branham oggi se udite la sua voce il paragone che il nostro Signore mi ha dato per mio conforto nella terza epistola di Giovanni questo speciale uomo di Dio che era sull'isola di Patimo e che ha ricevuto l'ultima rivelazione qui l'uomo di Dio ha scritto un'epistola al suo collaboratore al suo caro fratello Gaio lo leggo leggo il verso 1 e 4 terza epistola di Giovanni verso 1 l'anziano ha il diletto Gaio che io amo nella verità e poi gli augura che possa prosperare in ogni cosa parla della verità di Dio e poi nel verso 4 io non ho maggiore allegrezza di questa di udire che i miei figlioli camminano nella verità c'è per me una gioia più grande di sapere che voi camminate nella verità che il Signore ha dato la parola della verità e che la verità della parola ci ha resi liberi liberi da ogni errore quando questo speciale uomo di Dio l'apostolo Giovanni del quale il Signore aveva detto se io voglio che egli rimanga finché io venga che ti importa egli voleva che rimanesse finché l'ultima rivelazione fosse data sull'isola di Patmo alla chiesa se voglio che rimanga finché io venga che ti importa poi abbiamo qui naturalmente la parte triste il triste resoconto vale a dire in primo luogo il verso 8 e poi il verso 9 terza epistola di Giovanni versi 8 e 9 noi dunque dobbiamo accogliere tali uomini per essere cooperatori con la verità per essere cooperatori con la verità e poi viene la parte triste nel verso 9 l'apostolo Giovanni scrive ho scritto qualcosa alla chiesa ma Diotrefe che cerca di avere il primato fra loro non ci riceve tenetevi stretti un uomo di Dio uno speciale uomo di Dio che aveva conosciuto il Signore personalmente che lo aveva visto dopo la sua resurrezione che aveva ricevuto l'ultimo incarico di andare nell'isola di Patmo per ricevere l'ultima rivelazione e poi viene qualcuno come conduttore di una chiesa e Giovanni scrive voglio venire da te ma questi dice no non è possibile non c'è bisogno che tu venga sì pensate a questo un momento pensate a questo così tanti si riferiscono al messaggio e vogliono essere qualcosa di speciale vogliono avere la preeminenza e non pensano affatto di ricevere ed invitare il fratello Frank e lasciare che il fratello Frank parli no niente affatto loro si sentono così importanti sapete quando ho letto questo ho detto dentro di me ogni cosa si ripete e ho pensato quando il fratello Barana mi ha detto a me e Valde Frank mi ha detto vuoi per favore predicare al posto mio a Los Angeles il fratello Barana mi disse ciò che il Signore aveva detto egli ripete in lingua inglese ciò che il Signore aveva detto in lingua tedesca e poi mi diede la precisa spiegazione aspetta con la distribuzione del cibo impose le mani su di me e disse come è vero che il Signore ti ha chiamato per predicare il Vangelo così tu hai il diritto di pregare per gli ammalati perché chi è stato chiamato a predicare il Vangelo è chiamato a pregare per gli ammalati se l'uomo di Dio l'uomo dell'ora è stato usato da Dio per imporre le mani all'umile fratello Frank l'ultimo dei servitori che non è degno dell'incarico ricevuto per pregare per lui affinché Dio fosse con me e che potesse benedire il Ministero che egli mi ha dato ancora una volta non forzeremo nessuno ma questo deve essere detto tutti quelli che adesso sono da Dio avranno parte in quello che Dio fa proprio ora senza criticare ma permettetemi di fare la domanda possiamo sedere alla stessa tavola alla cena delle nozze quando nei passati 40 anni sulla terra non siamo mai stati seduti insieme in una sola riunione senza celebrare insieme la cena del Signore potremmo poi essere insieme alla cena delle nozze dell'agnello noi che non ci siamo conosciuti gli uni con gli altri sulla terra disprezzando ciò che Dio fa proprio ora e pensare che poi tutti saremo col Signore fratelli e sorelle chieda Dio ascolta la parola di Dio e chieda Dio e partecipe in quello che Dio fa proprio ora per grazia le profezie di prima Dio le ha ad impiute nuove cose egli annuncia e queste egli le adempie adesso nel nostro tempo e noi passeremo dal credere al vedere fratelli e sorelle da ogni paese d'Europa da ogni paese su tutta la terra Dio ci ha fatto grazia di essere radunati nel suo nome e di predicare la parola della quale in tutto il mondo ne sono partecipi l'ultimo messaggio è risuonato e il Signore è stato misericordioso con noi fino ad oggi e noi aspettiamo pazientemente e con fede finché la prima e l'ultima pioggia cadano insieme finché la Chiesa diventi di un solo cuore e di una sola anima nessuna zizzania ci sarà più ma solo il puro grano sul quale l'ultima pioggia cadrà e il sole della giustizia produrrà la piena raccolta del grano e così lo sposo potrà ritornare per portare a casa la sua schiera riscattata col sangue la sua schiera lavata nel sangue la schiera la Chiesa sposa per portarla a casa anche questa considerazione mi viene adesso per favore prendetelo seriamente Dio Dio soltanto suggellare un contenuto divino il suggello con lo spirito della verità può aver luogo soltanto quando la parola della verità è nel vostro cuore se anche una sola interpretazione è nel cuore allora Dio non può dare il suo suggello il suo suggello egli lo dà soltanto alla sua parola che noi abbiamo ricevuto laddove ci sono interpretazioni ci può essere un'unzione ma il suggellamento è soltanto laddove Dio solo è presente nella schiera riscattata col sangue che riceve la parola a Lui sia la gloria e tutti dicano amén tutti dicano alleluia alziamoci in piedi alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme magari oggi chiederemo al nostro coro di cantare sarebbe bello se potessimo ascoltare un cantico in lingua inglese ma ad ogni modo come il conduttore del coro è guidato fratelli e sorelle chiniamo i nostri capi in riverenza davanti a Dio davanti alla sua parola e ringraziamo Dio per ciò che gli fa proprio ora noi vediamo le promesse che gli adempie anche la promessa io vi mando il profetelia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore noi vediamo tutte le promesse che il Signore ha già adempiuto e vediamo come egli è presente alleluia alleluia noi vediamo come egli adempie le promesse proprio ora chiamando fuori il suo popolo da ogni popolo lingua e nazione da ogni tribù per santificare la sua schiera riscattata nella parola di verità lavata da ogni tradizione e interpretazione lavata nel sangue dell'agnello tramite la parola siamo purificati da ogni cosa che non è scritta nella parola diventando una sposa parola santa come lo sposo è santo santificali nella verità la tua parola è la verità caro Signore io reclamo la Chiesa sposa che è redenta per mezzo del tuo sangue lavata nella tua parola suggellata tramite il tuo santo spirito fino al giorno del glorioso ritorno caro Signore ti aspettiamo nel nostro tempo e ti ringraziamo sì ti ringrazio che tu ci hai aperto l'intendimento per conoscere la scrittura per tutte le scritture che sono ordinate per il nostro tempo per loro tu hai aperto il nostro intendimento e noi ti ringraziamo anche per quello che abbiamo letto in due corinzi capitolo quattro all'inizio tu hai detto sia la luce e la luce fu e nel nostro tempo hai parlato ed è diventata luce ora la domanda prima che il coro canti chi è stato da poco aggiunto chi ha messo piede sul terreno della rivelazione chi riceverà e accetterà ciò che Dio ha promesso nella sua parola per favore prendete la vostra decisione oggi nel caso che non l'aveste ancora presa non passate accanto a ciò che Dio fa proprio ora nuove cose egli ha dichiarato e ci ha rivelato la sua parola la parola profetica e di insegnamento e noi possiamo ricevere Gesù Cristo crocifisso come il risorto colui che è asceso e colui che ritornerà per portarci a casa caro signore io reclamo tutti coloro che tu hai redento per mezzo del tuo sangue che hai santificato nella tua parola con te tutte le cose sono già accadute sebbene dovranno ancora accadere con te tutte le cose sono già compiute anche con noi caro signore possano possano gli ultimi prendere la loro decisione adesso per te possano prendere la loro posizione nella parola e che possano avere rivelata ogni cosa ciò che tu ci hai dato in questo tempo per grazia benedetto sia il tuo meraviglioso nome alleluia ora ascoltiamo un inno l'asso l'asso Grazie a tutti. 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 Yeah. Ja. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è una benedizione che tu ci hai dato. Ti ringraziamo insieme, Signore. Benedicici in ogni popolo, le nostre famiglie. Ti preghiamo nel tuo nome. Ti chiediamo di benedirci tutti. Io, il minimo, ti ringrazio. Questa è la tua grazia. La tua grazia verso noi tutti. Questa è la tua volontà. Grazie, Signore. Benedicici tutti nel tuo prezioso nome. Amen. 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 Così chiaramente il nostro fratello ha parlato che ho potuto anche tradurlo. È così potente. Da ogni popolo e lingua al nostro Dio sia la gloria. Non so come vi sentite, io potrei piangere di riconoscenza, dando gloria al Signore che ci ha visitati, che ci ha fatto grazia, prendendosi il tempo di parlare con noi, dando l'ultima chiamata. Chiediamo ora al nostro fratello di Dio di venire e di pregare con noi e al nostro fratello dall'Angola gli diamo i saluti e tutti i fratelli nel Ministero vi diamo i saluti, specialmente al nostro fratello Adi dalla Romania. Amen. Dove il nostro fratello, nostro padre, nostro Dio, ti siamo riconoscenti in questo giorno. Siamo venuti in questa santa convocazione con un'aspettativa nel cuore affinché Tu, nostro Dio, possa parlarci. Signore, Tu ci hai parlato, Tu hai riempito il nostro cuore Dio Onnipotente della Tua santa parola, che ha il potere di trasformare la nostra vita. Signore, noi portiamo da questo luogo le benedizioni divine, che Tu ci hai inviato in quest'ora, affinché noi possiamo essere un popolo separato, pronto per il giorno e per l'ora che Tu hai preparato per noi. Grazie per l'opera completamente compiuta al Calvario. La nostra anima ti loda, Signore, perché Tu hai perdonato tutti i nostri peccati e Tu hai guarito tutte le nostre malattie. Sia la gloria, l'onore e la lode a Te, Signore, perché Tu hai riempito il nostro cuore nel Tuo glorioso Santo Spirito, affinché marciamo guardando con lo sguardo fisso a Te, Gesù Cristo, perché Tu sei il Duce compitore della nostra fede. Signore, mentre ci dipartiamo, rimani con noi, che la gioia, Signore, riempia ancora i nostri cuori, che questa gioia della salvezza dimori in noi per la gloria del Tuo nome. Signore, noi accettiamo tutto quello che Tu hai fatto in quest'ora, la chiamata divina che va nel mondo intero per la predicazione della Tua parola, per la distribuzione del Tuo santo cibo. Signore, noi crediamo e abbiamo accettato, ciò prepara i nostri cuori in vista del Tuo glorioso ritorno. Onore a Te, Signore, benedici il Tuo servitore, benedici il Tuo popolo, custodisci ciascuno di noi nel nome potente e meraviglioso del nostro Signore Gesù Cristo. Il Redentore vivente, amén. Amén. Gloria a Dio. Amén. 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 Cantiamo l'altra breve. Il nostro caro fratello dall'Angola, Per favore, ti auguriamo le benedizioni di Dio lungo la tua via. Porta i saluti con te in tutto il paese là. Porta i saluti con te. Benvenuto qui. Non è stato tradotto. Giusto per augurarti le benedizioni di Dio. Che il Signore sia con te. Porta i saluti con te a tutti i fratelli e a tutte le sorelle. Noi siamo uniti nell'amore di Dio. E se Dio farà grazia e se il Signore non sarà ancora ritornato, sono pronto a venire ancora una volta. Talvolta mi è stato dato il benvenuto sia a Kinshasa, lì il Presidente mi ha offerto la sua macchina, mi ha dato il suo autista, mi ha dato il benvenuto personalmente e allo stesso modo è stato in Angola. Eravamo in tragitto dall'aeroporto e poi è arrivata una telefonata e il Presidente mi ha dato il benvenuto e mi ha augurato le benedizioni di Dio e da tutto il paese. Possa il Signore benedirti e che possa essere con te. Amen. Amen. Cantiamo la fra breve. Alleluia. Ora vi diciamo arrivederci a voi tutti in tutto il mondo. Tutti coloro che sono uniti a noi online, Dio volendo, il primo fine settimana di ottobre avremo il giubileo di 50 anni. Nell'ottobre 1964 ho fatto il primo viaggio missionario in India. In merito a questo, Dio volendo, e se siamo ancora qui, vi darò un breve resoconto. Come il fratello Brana mi ha dato il nome di un uomo e come ogni cosa è stata preparata da Dio stesso. e come il Signore ha benedetto. Ora portate la parola con voi, meditatela nel vostro cuore, credete, realmente credete e poi ogni cosa vi sarà rivelata e insieme andremo verso il compimento. E siamo riconoscenti che il Signore ritorna, ritorna per portarci nella gloria. Come il fratello Yuri Kebani che ha ringraziato il Signore, si può realmente dire, è stata una preghiera del pieno Vangelo. È stata una preghiera del pieno Vangelo. E se pensiamo anche a questo, nell'ex Unione Sovietica, sia a Mosca o a San Pietroburgo, negli Urali, sia a Novosibirsk, sia a Karaganga, ovunque vi ha condotto le nostre vie, e noi possiamo portare la parola dell'ora. E Dio si chiama fuori, oh, benedetto, benedetto lodato, sia il suo santo nome, ora e per sempre. Cantiamo alleluia, si lodato. Alleluia, 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 all Amen.